Sin da quattro giorni, dalle due scosse di giovedì, qual è la situazione? La situazione che sta emergendo sul piano strutturale intorno all'epicentro, cioè da Piandassino a Pierantonio, è una situazione molto molto difficile, critica. Stanno arrivando le certificazioni su proluoghi e ci sono tantissime case lesionate e inagibili. Quali sono i primi numeri che avete a disposizione? I primi numeri che abbiamo a disposizione sono che parliamo intanto sulle scuole di due scuole inagibili, che è sempre nella frazione Pierantonio, la scuola media e la scuola primaria, si è salvata solo l'infanzia, quindi parliamo di 160 bambini da ricollocare e stamattina abbiamo avuto un incontro con le dirigenti scolastiche, anzi la dirigente perché un'altra già aveva dato la disponibilità perché era magari un pochino più semplice, per ricollocare questi ragazzi. Faranno un po' di dad, però abbiamo delle idee in merito. E poi c'è tutta la parte legata all'inagibilità delle case, perché è chiaro che dentro una palestra è il primo soccorso, ma occorre iniziare a pensare a risolvere il problema. Quali sono i prossimi passi da fare? I prossimi passi sono semplicemente rientrare in un contesto di emergenza, di terremoto che necessita di interventi anche e soprattutto finanziari, perché noi dove le mettiamo queste persone? Quando parliamo di 200 sfollati dove le mettiamo? Abbiamo bisogno di aiuto e questa è la richiesta che dobbiamo fare, assolutamente, perché non è che perché non ci sono morti, non ci sono feriti il terremoto non abbia colpito. Il terremoto ha colpito in maniera pesante da un punto di vista strutturale.